È stato identificato nella tarda serata di ieri l'alpinista Aquilano deceduto sul monte Sirente, travolto da una slavina mentre era in tento in un'espulsione ad alta quota insieme ad altri quattro amici, fortunatamente illesi, ma sotto shock. Si chiamava Luca Nunzi, 45 anni. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di ieri sul versante nord del Sirente, nei pressi di Valle Lupara. L'incidente fatale sarebbe avvenuto dopo una caduta dello stesso Nunzi, che ha di fatto provocato una slavina che lo ha travolto e seppellito sotto metri di neve. A nulla sono valsi i soccorsi allertati dai compagni che una volta arrivati sul posto, verricellati dall'elicottero del 118 dell'Aquila, non hanno potuto far altro che constatare la morte per asfissia con molta probabilità dell'uomo. Sul posto anche il personale del soccorso alpino espiologico d'Abruzzo e del soccorso alpino della Guardia di Finanza. C'era allerta valanghe nel canale, ha dichiarato uno dei soccorritori. Gli altri quattro membri del gruppo sono rimasti in lesi, seppur comprensibilmente sotto shock. Sto bene, ma sono spaventato, ha detto uno di loro. Non potevamo fare nulla. Cordoglio all'Aquila, tra quelli che conoscevano il 45enne. Un abbraccio di vicinanza, giunga la famiglia di Luca e i suoi cari per l'incolmabile dolore, ha scritto il primo cittadino Pierluigi Bioni, ringraziando i soccorritori. Una tragedia che interroga sulle tante altre tragedie registrate sulle montagne abruzzesi, in particolare sul Gran Sasso, che nel 2023 ha registrato ben sei vittime, l'ultima il 31 dicembre nella zona di Pizzo Cefalone. Anche i primi giorni del 2024 sono stati caratterizzati dall'incessante lavoro delle squadre di soccorso, talvolta obbligati a recuperare escursionisti mal equipaggiati, come la comitiva di 15 persone rimasta bloccata la scorsa settimana al rifugio Sebastiani, sulla catena montuosa del Sirente Velino.